mangia un avocado al giorno e questo succederà al tuo corpo ciao amici tra i tanti superfood io ne ho uno che adoro secondo voi qual è chi mi segue da più tempo sa indovinare noi lo sappiamo è l'avocado esatto l'avocado è un superfood a tutti gli effetti perché contiene grassi buoni vitamine minerali proteine e fibre ci sono diversi studi scientifici che dimostrano i benefici di questo frutto per la salute come anti age anti invecchiamento prevenzione di infarti e ictus energia e brucia grassi dimagrimento bella pelle adesso vediamo insieme cosa succede mangiando un avocado al giorno se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 abbassa il colesterolo i grassi buoni omega 3 contenuti nell'avocado aiutano il corpo a ridurre il colesterolo cattivo ldl mentre aumenta il colesterolo buono hdl questo previene anche le malattie di cuore sistema circolatorio 2 riduce la fame nervosa secondo uno studio aggiungere un avocado al proprio pranzo riduce la fame nervosa del 40 per cento dopo tre ore e del 28 per cento dopo cinque ore 3 nutre in modo completo basta un avocado per assumere buona parte delle vitamine e minerali raccomandati dall'oms l'avocado contiene oltre 20 vitamine e minerali come vitamina c vitamina e vitamina b vitamina k rame folati potassio acido pantotenico 4 previene l'osteoporosi il contenuto di vitamina k folati rame aiuta le ossa rimanere forti e sane è consigliato sia per le donne in menopausa che per le donne più giovani come prevenzione 5 facilita la digestione la fibra alimentare contenuta nell'avocado stimola il transito intestinale e facilita la digestione 6 dimagrire e fare massa magra secondo gli studi chi consuma avocado regolarmente ha un indice di massa corporea più basso con meno massa grassa e più massa magra poi il suo effetto saziante aiuta a mangiare meno ma i nutrienti apportano energia e stimolano il metabolismo 7 prevenire il cancro le ricerche hanno scoperto che consumare avocado regolarmente riduce i fattori di rischio del cancro alla prostata e riduce gli effetti collaterali dei trattamenti anti cancro avocado ogni giorno e poi è buonissimo per sapere come mangiarlo potete seguire la facile ricetta di questo video e per vedere tanti altri video iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e vivi meglio vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa gli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere va in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed e book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao